Ciao a tutti e benvenuti su Tech Gaming. In questo primo video di recensioni hardware voglio condividere con voi la mia opinione su questa tastiera GameSeer, abbinata poi al mouse GameSeer, che mi è stato gentilmente offerto per questa recensione. La tastiera di GameSeer naturalmente è una tastiera da gaming, quindi è stata pensata principalmente per il gaming, però naturalmente io la utilizzo anche per lavoro. È una tastiera abbordabile come prezzo, quindi non ci troviamo davanti a una tastiera costosa ma nemmeno una tastiera economica. Se non vado errato dovrebbe aggirarsi tra i 50 e i 60 euro, non vorrei dire una scemenza perché poi i prezzi salgono e scendono di continuo. Poi vi allego comunque il link per acquistare sia la tastiera che il mouse. Quindi diciamo non abbiamo di fronte una tastiera costosissima e nemmeno una tastiera economica. Abbiamo una tastiera che come prezzo è abbordabile e come caratteristiche diciamo è accettabile per quello che vale, insomma per quello che vi serve. La tastiera è meccanica e come potete vedere praticamente si scollega facilmente dal poggiapolsi che è realizzato in plastica. Quindi contrariamente ad altre tastiere non è un poggiapolsi diciamo professionale che si accende come un albero di Natale come quello di Viper. Non si aggancia diciamo in modo saldo la tastiera ma va semplicemente appoggiata come potete vedere così. Va appoggiata su di esso e avete la vostra tastiera poggiapolsi come potete vedere. È estremamente comoda la digitazione come potete sentire, è meccanica però diciamo non è quella tastiera meccanica magari professionale e silenziosa. È una tastiera meccanica tra virgolette economica ma che fa il suo lavoro egregiamente. Soprattutto diciamo se la utilizzate per digitare dei testi. Fa rumore, tanto rumore come potete sentire. A me personalmente piace questo rumore, ad altri no. Quindi diciamo è una tastiera silenziosa? Assolutamente no. Ha i led interni come potete vedere sono bianchi. Quindi sinceramente non ho avuto modo di diciamo utilizzare il software GameSeer però di default non possono essere sostituiti perché di solito alcune tastiere meccaniche hanno la possibilità di cambiare i led a seconda dell'esigenza. Quando avevo la tastiera Viper avevo impostato i led verdi ed era spettacolare. Questa tastiera ha i led bianchi però penso che con il software possono essere diciamo cambiati. Non ho avuto modo di verificarlo. Il mouse invece come vedete ha praticamente diversi led. Cambia di colore di continuo. Quindi diciamo è un prodotto differente dalla tastiera in termini di personalizzazione. La tastiera è wireless. Io adesso la utilizzo con il cavo perché altrimenti dovrei ricaricarla di continuo. A tal proposito quanto dura la batteria? Sinceramente io ci faccio qualche giornata e quindi diciamo la batteria è anche abbastanza generosa. Però ecco se non volete diciamo avere la noia di ricaricarla di continuo la collegate via USB e il gioco è fatto. La tastiera come potete vedere è completa praticamente ha i tastierini numerici, ha tutto quello che vi occorre ma non ha le macro. Quindi diciamo non potete programmare la tastiera in modi differenti e passare da una configurazione all'altra premendo i tasti M1, M2 eccetera eccetera. Quindi è una tastiera base che ha solo quello di cui avete bisogno per lavorare o diciamo giocare. Il mouse invece come vedete è wireless, adesso scollego il cavo di ricarica però è wireless e naturalmente può essere usato anche diciamo con il cavo. La particolarità del mouse è questa che potete sostituire i pezzi laterali. Ora io ho diciamo preferito le alette come vedete perché sono molto più comode per poggiare il pollice però vi sono anche altre configurazioni all'interno della confezione. Come vedete sono praticamente tipo magnetiche infatti se appoggiate, vediamo se riesco, se appoggiate nel modo giusto come vedete si aggancia tranquillamente. Il mouse ha un dorso ruvido però diciamo ha una cosa che a me non piace e anche il Logitech professionale è così purtroppo, il fatto che con il tempo magari tende ad usurarsi quindi a diventare una superficie liscia. Di lato la stessa cosa, abbiamo una superficie ruvida inizialmente ma poi tende a diventare liscia. Ovviamente è ottico, è wireless come vi ho detto, ci fate qualche giornata nonostante vi siano presenti i led ed è ricaricabile appunto con il cavo USB in dotazione. I tasti. Allora questo mouse ha diciamo praticamente due tasti sulla sinistra, due tasti scusate sulla destra, il tastino per cambiare dpi e poi naturalmente la rotellina che può essere utilizzata anche come diciamo tasto. La particolarità di questo mouse è il design che è appunto da gaming e si abbina alla perfezione alla tastiera GameCR. Se siete interessati ad entrambi i prodotti potete trovarli su Amazon tramite i link che vi allego nella descrizione di questo video.